Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Il derby del basket in diretta su Telequattro L'eccezionale prevendita per il match con la GSA a Budine ha mandato in fumo i tagliandi dell'Almarena che domani sera segnerà il tutto esaurito e ha dato il via all'eccezionale iniziativa nata da un'idea dell'amministratore delegato di Palacanestro Trieste Alma Gianluca Mauro, immediatamente sposata da Telequattro Un regalo ai tifosi della società cestistica e un grande sforzo per organizzare la produzione in tempi risicatissimi per la nostra emittente Appuntamento quindi per tutti quelli che non saranno al palazzetto alle 20 e 25 di domani su Telequattro con la telecronaca di Matteo Zanini e Sebastiano Romano Per chi vuole vederla in compagnia, magari davanti a un aperitivo e con l'ulteriore iniziativa targata Alma un mega schermo allestito in piazza della Borsa per godersi il derby Si tratta di un regalo che abbiamo voluto fare la città per ripagare il grandissimo affetto che stiamo sentendo quest'anno e in questi giorni in particolare ha spiegato il presidente della Palacanestro Trieste Giovanni Marzini aggiungendo un grazie al Comune di Trieste e alla Lega Nazionale Palacanestro per i tempi record a tutte le autorizzazioni e a Telequattro per lo sforzo organizzativo Ancora una volta in campo per voi sul canale 10 del Digitale Terrestre come la primavera io e te... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti